Quando tra 50 anni sorderanno musei per ricordare l'Orocausto dei migranti in mezzo al Mediterraneo, quando diventerà programma scolastico, quando i vostri nipoti andranno in cita a vedere i reti trovati sui balconi, quando verranno filmati a scuola e sentiranno testimonianze, quando verranno costruiti monumenti epocriti alla memoria di ciò che si poteva fare ma non è stato fatto, ricordatevi che voi eravate quelli di che su Facebook pubblicavano notizie tipo i grandestini vanno in vicina ma buttano il zibo.